RISPONDA, RISPONDA, BANITO L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Allora Quello che stavo dicendo ragazzi Stavo parlando dei link di affiliazione Grazie a Camborex per il problema Adesso raga vado dritto Stavo parlando dei link di affiliazione I link di affiliazione ce l'hanno tutti gli streamer di Casinò E dico tutti gli streamer di Casinò Io il link di affiliazione, come vi ho raccontato più volte Mi sono rifiutato prontamente di metterlo Per i primi anni di stream di Casinò Poi vedendo che tutti gli streamer Vedendo che il Casinò era un trend che andava Sono arrivati a fare Casinò lucrando con i link di affiliazione Poi prendendosola magari con il sottoscritto Semplicemente perché facevo gambling più frequentemente di loro Si sono incazzati E quindi ho detto vaffanculo Non succhiatemi il cazzo, non me ne frega più un cazzo Inizio anche io a lucrare sui cazzo di link di affiliazione E infatti dal 2023 Ho iniziato anche io a lavorare In maniera più attiva Con questi cosiddetti link Che aiutano gli streamer di Casinò Aiutano Fanno fare un sacco di soldi agli streamer di Casinò Con la gente che si iscrive Tramite il loro link di affiliazione Ai siti Io lo sapete che moralmente ed eticamente Era una cosa che Ho sempre cercato di evitare Però vaffanculo Ho detto lucriamo su quella cazzo di Ludo Perché mi sono anche rotto il cazzo Visto che me ne hanno dette di ogni tipo di Merdate possibili Me le hanno affibbiate tutte a me Per quanto riguarda il mondo del gambling O almeno All'inizio Quando era scoppiata la polemica Ho detto Perché non dovrei Lucrarci anche io Come hanno fatto anche i top streamer italiani Portando due stream di Casinò Per lo più Con 7000 euro falsi Ed ora gli ho detto Bru Con 7000 euro messi dal sito Bru Le ciliegine E no ma perché io ho queste sub E posso permettermi di fare questi startini Con il link di affiliazione Poi in chat Che scorreva ogni 5 minuti Ma va bene Ma questo non ci interessa Questi sono drama passati Di cui non me ne frega manco più Come funzionano Guadagni una tantum O prendi una percentuale Delle vincite Ricariche Di chi ti si iscrive Con il refer Il conti lives Come funzionano Voi vedete Se fate Basta che fate anche Vedete dal mio Se fate punto esclamativo Info Vi uscirà il mio link di affiliazione O punto esclamativo sito Quel link di affiliazione Quel comparatore Si chiama comparatore di siti Vi metterà Davanti a voi Una comparazione di siti Che Nel mio caso Sono tutti italiani Sicuri Come guadagna lo streamer Lo streamer guadagna In base ad ogni persona Che si iscrive In un sito Quindi in un sito Non su più siti In uno soltanto E su quel sito Conferma i documenti E effettua il primo deposito Da 25 30 40 euro Quale cazzo è Ok E una volta effettuato Il primo deposito Scatta la CPA Che sarebbe Il guadagno Che lo streamer Prende Sull'iscrizione Sul primo deposito Di questa cosa Ok Vi è chiaro ragazzi Aspetta un attimo Che apro la chat Che ho chat Chatterino chiuso Il 15 dicembre Uno Streamer Di Casino Ha fatto questo fantastico contest Sul suo telegram Dove invitava i suoi follower A ricaricare E iscriversi Su uno di questi siti Nel suo comparatore Depositando almeno 25 euro In modo da far scattare la CPA E come Invoiava i suoi follower Questo streamer Con questo fantomatico Contest Ragazzi Per vincere 200 euro Basta iscriversi E depositare 25 euro Su questo link Su un sito che non avete Ogni 10 persone Ci sarà un vincitore casuale Affrettatevi Sicuramente non stiamo parlando Di Tony Turbo Non è Tony Turbo Non c'entra niente lui A sto giro assolutamente Innocente Non fate nomi in chat Non sparate Non accusate gente a caso Di cui non sapete Di cui non potete Non sapete niente Non fate i nomi No è inutile Smettetela Non c'è bisogno Ogni 10 persone Ci sarà Un vincitore casuale Affrettatevi L'offerta E' valida Solo per oggi Ragazzi Poi il messaggio sopra Ma poi ho fatto molto ridere Perché il messaggio sopra Alle 14.40 Tutto real ragazzi E poi dopo scrivere il messaggio Però va bene ci sta Io purtroppo non ho vinto ragazzi Purtroppo non ho vinto Purtroppo non ho vinto Signori miei Ahimè Non ho vinto E niente Questo è un modo Che questi piccoli gamblerini Utilizzano per incentivare Il loro pubblico Ad iscriversi Sui loro link Sul loro comparatore In modo tale Di poter avere Gli startini Ci sta Anche Anche io sono stato nel pozzo Però non ho mai truffato nessuno Su Telegram Col mio comparatore Grazie a Dio Anche perché non ce l'ho mai avuto Quindi Prima di due mesi fa Ancora Ancora ero a raccogliere le banane O per non bastare Ragazzi Per non finire L'offerta È valida Solo per oggi Ok L'offerta È valida Solo per oggi E allora Il 16 dicembre Cosa succede Il 16 dicembre Un'altra offerta Uguale bro Un'altra offerta Uguale bro Il 16 dicembre Cazzo L'offerta valida Solo per oggi Raga Era valida Per due giorni Di fila Cazzo Assurdo Assurdo Raga Assurdo Raga L'offerta Valida Solo per oggi È assurdo Assurdo Ragazzi Assurdo Come poltronio Sofa che fa sempre L'ultima domenica Di offerte Esatto 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 E quindi niente Mi ha fatto molto ridere Mi ha fatto molto ghignare Tutto ciò Mi ha fatto molto ghignare Anche perché già Usare il comparatore È un qualcosa Di borderline Molto borderline Cioè Io prima di iniziare Ad usare In maniera fissa Il comparatore Mi sono dovuto Far convincere La tante persone Quindi Mi ha fatto Mi ha fatto sorridere Mi ha fatto ghignare Vedere Come degli streamerini Abbiano Preso per il culo Truffato E preso per il culo E truffato E poi anche preso per il culo E poi anche Preso in giro Deriso E poi anche preso per il culo E poi anche preso per il culo Tutta la loro community Prima Iniziando ovviamente La loro carriera Giocando con le ciliegine E in secondo luogo Facendo queste cose Però ci sta Onde evitare Che voi Pensiate che io stia Dicendo cazzate Questo È lo scream È un cazzo ragazzi Assurdo Assurdo vero Assurdo Non sono stupito Ah Vabbè Ci sta Ma devi di il nome Non c'è bisogno Di dire il nome Perché mai dovrei Vi voglio mettere Semplicemente in guardia Se mai Un giorno Entriate in un canale Telegram Di qualche Gamblerino E vi proponessere Offerte Di questo stampo Quindi state attenti Ragazzi RISPONDA RISPONDA BANIDO Clip rettiliani L'anima degli mortacci Tua Ah 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 Ah